Alla Cremonese non basta una ripresa giocata con l'uomo in più per sbarazzarsi dell'Albino Leffe. L'1-1 finale sta stretto ai grigiorossi e fa gioire i bergamaschi. Trainata da un della Rocca in formato super, la squadra di Torrente ci ha provato fino alla fine, su un terreno sempre più pesante col passare dei minuti. Con Brighenti e Palermo non all'altezza delle precedenti uscite, alla fine è costata cara la disattenzione commessa in occasione del pareggio di Girasole, incassato nel momento più sbagliato, che ha interrotto una striscia di tre partite consecutive senza subire gol. L'approccio alla gara della Cremo è da censura, nei primissimi minuti di gioco pesenti a due occasioni d'oro, sulla prima è Galli a dire di no, sulla seconda l'errore del bomber tenuto in gioco da Caracciolo è madornale. Scampato il pericolo, i grigiorossi sfruttano la prima punizione per portarsi in vantaggio, campo pennella per della Rocca che di testa fa 1-0. Ma la risposta dell'Albino Leffe è quasi immediata, Tugordò dalla bandierina tocca per Regonesi che crossa in area dove Girasole anticipa tutti pareggiando i conti. La Cremo dietro non è ermetica come a Salò e corre un altro serio pericolo al 27esimo sull'incursione in area di Gazzo. Prima del riposo però Della Rocca a due passi dal portiere sciupa un assist al bacio di Bruccini e manda il pallone a stamparsi sulla traversa. Nella ripresa Piccini rimedia subito il secondo giallo e lascia in dieci gli ospiti. Inizia l'assalto grigiorosso, l'area dell'Albino Leffe diventa un fortino eretto sul pantano. Abbate spedisce clamorosamente a lato all'ottavo minuto dopo una conclusione di Bruccini, poi il capitano grigiorosso ci prova senza successo con un tiro da fuori. Torrente getta nella mischia un Caridi ispiratissimo che al 24esimo calcia di poco a lato e in pieno recupero impegna in girato Offredi che non si lascia tradire dal terreno infangato. In classifica Ciccone e Venezia ma Provercelli e Dentella volano e appaiono ormai troppo lontane. Saranno loro a giocarsi il primo posto.